eccolo qua c'è anche l'audio uno studente a tokyo allora si lo mettono lo mettono se non avete mai capito purtroppo niente di anche per la bici se non avete purtroppo mai capito niente di estetica design queste cose ma scusa iphone lab se io glielo mollo lì lui mi sistema il vetro torno tra mezz'ora ma adesso no dai bella buonasera senti visto che mi sa che tu fai questo lavoro qua non è ancora cambiato questo successo boh credo sei sei allora è aziendale ma mi ha detto che tanto non abbia la casco quindi ok ma no il video è un coglione va bene ma io te lo lascio anche qua aspetta che spengo il video